Arresto a lampo dei carabinieri di Fano per furto d'auto. Un 22enne aiuto cuoco albanese con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio domiciliato a San Costanzo, la notte scorsa ha rubato una smart dal parcheggio di un condominio fanese ma dopo meno di 300 metri è stato individuato da un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Fano e gli ha intimato di fermarsi. Il giovane topo d'auto vistosi scoperto ha spento i fari della smart e ha accelerato cercando di dileguarsi per le strade del centro. I carabinieri però si sono lanciati al suo inseguimento che si è concluso di lì a poco con il fermo dell'auto ed il suo arresto in flagranza di reato. La smart è stata restituita subito al proprietario che non si era ovviamente accorto del furto. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Fano, questa mattina l'albanese è stato giudicato con rito per direttissima dal giudice del Tribunale di Pesaro che oltre a convalidare l'arresto lo ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e lo ha rimesso in libertà, imponendogli però l'obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Fano per tre volte a settimana. I carabinieri hanno anche accertato che il giovane topo d'auto era privo di patente di guida perché mai conseguita e che si era messo alla guida della smart con un tasso alcolemico superiore di tre volte il limite di legge. Oltre al furto d'auto quindi dovrà rispondere anche di guida senza patente ed in stato di ebrezza.